Adesso, siamo un po' in ritardo. Grazie a tutti. 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 Il sicomoro.it è il sito internet dell'associazione che vi parlavo pochi istanti fa. Poi c'è anche la Fulima International per parlare della salvaguardia dei bambini che sono praticamente buttati in strada. Questo vale sia a livello internazionale ma anche qui in Italia. I problemi infatti ci sono purtroppo. E poi diamo spazio anche ad altre iniziative culturali lanciate da altre associazioni come ad esempio sempre in provincia di Pordenone. Abbiamo Terra Mater che molto spesso ci offre la possibilità di intervistare personaggi come quello che sentirete tra non molto. Dunque, a questo punto, prima di dare la linea a Galviano, vorrei dare una notizia. Scusate la ripetizione perché sto nel frattempo consultando il mio monitor qui. Una notizia tratta dal gazettino di Venezia dove si parla di un caso di degrado. Un degrado a mio avviso molto grave. Purtroppo in questi ultimi anni molto spesso nelle città si assiste a questi degradi, persone che non si comportano bene. Insomma, ad esempio il caso di Jeslo, festa di fine estate fra caos e degrado. Questi sono inventati di fare una festa di fine estate, che poi a mio avviso sarebbe anche meglio fare una festa di inizio estate. Ad ogni modo, strade invase dai giovani per la Kermesse, tutto a un erro, gli organizzatori si scusano, evento da ridimensionare. Cos'è successo? Prima la strada occupata, poi la sporcizia e il degrado e polemica per l'evento denominato tutto a un erro di sabato scorso. Praticamente ci sono state tutte queste persone che hanno invaso la carreggiata stradale, impedendo quindi anche la circolazione alle auto, fra le proteste notevoli di chi abita in zona. E quindi ancora una volta in città si riaccende la questione sul divertimento notturno al Lido. E quindi ecco, ci sono state delle scene veramente serie, veramente vergognose. Ad esempio, caos, grida, bevuti in mezzo alla strada, c'è stato chi ha allertato poi anche le forze dell'ordine, sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha avviato tutti gli accertamenti del caso. Ecco, ma non solo questo, c'è Schiaz poi ha fatto anche i bisogni personali a ridosso delle abitazioni, proprio nelle entrate delle abitazioni davanti ai negozi. Ecco, questo giusto per dare un attimo l'idea a che punto è arrivata la società, in questo caso la società giovanile. Ecco, questo è accaduto a Ieson, notizia che abbiamo preso qui dal gasettino di Venezia. Ad ora veniamo subito al tema di oggi, non voglio infatti portare via più di tanto tempo al mio collega e amico Albiano, che do subito la linea per la conduzione di Penedor Oggi e Menti nel Mondo con l'intervista al suo ospite, che ora ce lo presenterà perché sarà una sorpresa, un ospite molto importante. A te, Albiano. Grazie Massimo, grazie dell'ospitalità e intanto anche da parte mia un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piper, che in questo momento sono sintonizzati con noi e tra poco avremo il piacere di ascoltare Pier Giorgio Caria. Pier Giorgio Caria, che è già stato ospite nostro in altra occasione, che è un documentarista, un ricercatore, in particolare sui temi della visita extraterrestre e sui cerchi nel grano. È autore di interessantissimi documentari andati in onda sulla RAI, su Mediaset, ma anche su emittenti internazionali. E spesso viene invitato per la sua preparazione a conferenze, a simposi in tutto il mondo. Noi lo chiamiamo molto volentieri perché abbiamo imparato ad apprezzare il fatto che le sue trattazioni sono sempre immerse in un contesto di carattere spirituale. Cioè sono volte a sensibilizzare, chi guarda e ascolta, a sensibilizzarlo sulla dimensione sottile dell'uomo, quella appunto spirituale, che spesso o quasi totalmente è dimenticata in una società sempre più centrata su aspetti materialistici. Stasera parleremo dei cerchi nel grano, del fatto che la stagione, specialmente in Inghilterra, che è il luogo dove più accadono questi fenomeni, al termine siamo interessati a sapere che cosa ci può dire Pier Giorgio su questo tema, ma prima, caro Pier, vorrei che tu brevemente potessi spiegare il fenomeno dei crop circle a quanti magari ancora sono a digiuno di questa materia. A te la parola Pier. Ciao Albiano, un saluto carissimo a te e a tutti gli amici che stanno ascoltando il tuo programma. Un carissimo abbraccio. Il fenomeno dei cerchi nel grano è un fenomeno straordinario che moltissime persone sanno si manifesta soprattutto nei campi del sud dell'Inghilterra. è un fenomeno che si estrinseca attraverso la comparsa nei campi di grano di gigantesche figure che sono formate dalla piegatura del grano al suolo, che rispetto al grano che rimane raddrizzato, che rimane in piedi, appunto crea queste forme bellissime ed estremamente armoniose. Il fenomeno non è un fenomeno diciamo così recentissimo, si hanno le prime informazioni sulla comparsa dei cerchi nel grano sin dagli anni 60 in varie parti del mondo, abbiamo delle informazioni, anche delle foto della comparsa di questi cerchi, non esattamente nel grano, ma erano nell'erba, nella periferia della città di Brisbane negli anni 60, figure che comparvero subito dopo una intensa ondata UFO. Grazie a questi fatti si pensò che i cerchi nel grano che all'epoca erano solo ed unicamente cerchi, in qualsiasi tipo di cultura comparivano, fossero dei luoghi di atterraggio delle navicelle extraterrestri, quindi furono chiamati i nidi di UFO. Questa situazione rimane più o meno simile per circa il ventennio successivo, perché comparivano questi cerchi, il fenomeno era molto erratico, poco intenso, accompagnavano un po' qua, un po' là, però si trattava sempre di cerchi relativamente piccoli, non come poi li abbiamo conosciuti adesso. Negli anni 80 si ha la prima comparsa di figure sempre circolari, però magari vari cerchi l'uno vicino all'altro. Questo incomincia negli anni 80, soprattutto verso la fine, in cui compaiono delle figure tipo il numero 5 dei dadi. Interessa anche la polizia inglese che a dire il vero è la prima autrice delle fotografie aeree del fenomeno. Però diciamo la comparsa di questi cerchi che messi insieme davano l'idea comunque di una figura composita, trasse l'attenzione di un ingegnere inglese della compagnia elettrica inglese di nome Colin Andrews, che incomincia a interessarsi del fenomeno e assieme ad un altro ricercatore di nome Pat Delgado, scrissero un libro che si intitolava Circular Evidence, cioè evidenze circolari, e questo libro diventò un best seller. Addirittura fu letto, si sa che fu tra le letture estive della regina d'Inghilterra. Ma il cambio che conferma l'intuizione che ebbe Colin Andrews, cioè che il fenomeno era qualcosa di più che una semplice traccia di navicelle extraterrestri, ha una data ben precisa, perché sempre in Inghilterra, nell'Empshire, il 23 maggio 1990, compare per la prima volta una figura con dei tratti poligonali, non era mai accaduto prima, cioè prima erano semplicemente dei cerchi, un paio di volte anche con una piegatura strana, non quella piegatura spiraliforme che tutti conosciamo, però di fatto sempre e solo unicamente dei cerchi. Invece in questo cerchio nel grano che compare il 23 maggio 1990, vi sono delle figure rettangolari, oltre che ai soliti cerchi, il che fa fare un salto ai ricercatori, perché ci si rende conto che questa immagine, questa figura è un simbolo, è un simbolo da noi conosciuto, che risale nelle nostre antiche culture, è un simbolo molto semplice, sono due cerchi, tra i due cerchi via una linea, i due cerchi sono di misura di diametro diverso e questo simbolo è conosciuto dalle nostre antiche culture ed è un simbolo che significa unione tra cielo e terra, possiamo leggerlo anche comunicazione o comunione tra cielo e terra, il che fa capire ai ricercatori definitivamente si ha la conferma che il fenomeno dei cerchi nel grano non è un fenomeno collaterale alla presenza degli UFO, ma rappresenta esso stesso un fenomeno per quanto collegato, ma un fenomeno differente perché è un fenomeno comunicativo attraverso il simbolo. Quasi a sottolineare il fatto che iniziava con il fenomeno dei cerchi nel grano la comunicazione dal cielo alla terra, in quell'anno di figure di questo tipo ne compaiono varie, tra queste una che praticamente compare l'11 luglio dello stesso anno, 1990, sono due simboli di unione tra cielo e terra più altre simbologie riconducibili agli antichi egizi e praticamente questo riterare la figura dell'unione tra cielo e terra indica dal mio punto di vista come dire stiamo iniziando a comunicare, stiamo iniziando a comunicare dal cielo alla terra. Questo cerchio dell'11 luglio fece talmente tanto scalpore la foto aerea, fece il giro del mondo e addirittura l'allora ancora operante complesso rock famosissimo delle Zeppelin usò questa foto come copertina di uno dei loro long plane, ricordo che all'epoca c'erano ancora i dischi in vinile. Quindi questa è la genesi del fenomeno da un punto di vista comunicativo, se poi vuoi Alviano molto rapidamente posso anche fare una breve rassegna delle principali caratteristiche. Qualcosa forse va anche detto sulle principali caratteristiche, anche alla luce del fatto che qui in Italia, magari soprattutto il CICAP, ma anche in Inghilterra ci sono stati spesso dei detrattori del fenomeno e se tu spieghi anche le caratteristiche di ciò che effettivamente rende un crop circle tale e non una copia mal fatta, sappiamo che in Italia anche una rivista pseudoscientifica Focus è uscita in copertina l'immagine di un cerchio nel grano e il CICAP dice siamo stati noi a farlo. A dire la verità non sembrava neanche molto bello a vedere, però ecco se tu puoi approfondire un po' con questo aspetto. Faccio una battuta Alviano, allora il CICAP è una contrazione della parola non ci capisce nulla. Siccome nella vita a volte le cose hanno anche un senso a prescindere dalla nostra volontà, la cronica di questo gruppo di personaggi che tutto sono tranne che degli esperti, perché sono detrattori o per carenza di intelligenza o per carenza di ricerca o perché lo fanno apposta. Quindi tutte le loro bufale di affermazioni che il fenomeno sarebbe un falso, sarebbe fatto dai vecchietti, sarebbe fatto dalla cugina, dallo zio, da buontemponi eccetera eccetera. In realtà è una mezza verità Alviano, perché comunque il fenomeno, così come tutte le cose umane, presenta anche dei falsi, ma se vuoi possiamo anche fare una valutazione, l'esistenza di un falso implica l'esistenza dell'originale che è stato falsificato, perché se non esiste il falso che falsifica l'originale, il falso non è un falso, è un originale. Bellissima, osservazione, bellissima, grazie. Detto questo, quindi che il fenomeno dei falsi esiste, assolutamente esiste, anzi in questi ultimi anni ha avuto un incremento del numero di figure false che quest'anno, la stagione di quest'anno ha raggiunto veramente l'acqua, non si erano avuti mai così tanti falsi come quest'anno, ma così come è vero che esistono i falsi, quindi una parte di verità il CICAP la dice, ma è anche vero che il fenomeno è un fenomeno originale, è un fenomeno dal cielo alla terra che presenta numerose caratteristiche fisico-chimiche assolutamente impossibili da contraffare da parte di un qualsiasi falsario, quindi intanto nella stragrande maggioranza dei casi le piantine interessate dal fenomeno sono piegate alla base del terreno e la piegatura è plastica, non è una piegatura che rompe lo stelo comunque molto delicato delle piantine di grano, ma la cosa che più è importante sottolineare al Viano è che il fenomeno presenta delle caratteristiche assolutamente inserite nell'ambito di ciò che è la scienza, perché con gli appositi strumenti si è potuto verificare che l'aria interessata della figura, cioè dove le piantine sono piegate, le piantine di grano o delle altre culture interessate, a volte semplice erba, colza, mais, addirittura abbiamo avuto negli anni scorsi anche un cerchio nel grano in un campo di fave, quindi questo tipo di fenomeno, questo tipo di risultato sugli stegli delle piante è generato da un'energia che con gli appositi strumenti è stata più volte misurata. E che non si misura, scusami, e che non si misura invece nel caso dei falsi cerchi, ecco diciamo così. Ma forse nel caso dei falsi cerchi forse si potrebbero misurare dei gas se quelli che li fanno hanno mangiato fagioli, scusatemi, scherzo, ma ovviamente no, perché questa energia alviano impregna il terreno, è un'energia che impregna il terreno del cerchio nel grano, quindi abbiamo i pattern, gli schemi energetici misurati dai ricercatori che tra l'altro questi pattern energetici ricalcano perfettamente nello schema quella che è poi la struttura fisica del cerchio nel grano. Quindi abbiamo per esempio un caso di un cerchio analizzato nei primissimi anni che possiamo vedere nel grafico delle misurazioni un'energia di fondo di 5 mili tesla, che è l'energia naturale, scusate, di quell'ambiente, e invece nel centro dei due cerchi che compongono la figura abbiamo un valore energetico di 10 volte superiore, cioè si arriva ai 50 mili tesla. Quindi già qui come si fa con funi a siccelle a imprimere nel terreno un campo energetico che ha la stessa forma del cerchio nel grano, campo energetico che ovviamente si può riscontrare solo attraverso le strumentazioni elettroniche. Abbiamo un altro caso, un altro pittogramma, allo stesso abbiamo una radiazione naturale di fondo di circa 14 mili tesla per arrivare al centro delle figure, a circa il doppio, oltre 26 mili tesla. Quindi queste cose al viano non si possono falsificare, l'uomo non ha la tecnologia, o se ce l'avesse mettiamo per ipotesi che possa esistere un qualcosa di simile nei laboratori avanzati di europei o americani, ma chi è che porta un macchinario di valore per mettersi a fare il bullo o scherzi in mezzo ai campi di grano, tra l'altro non dimenticando di mettere in evidenza un fatto molto importante, entrare nel campo privato di un agricoltore e piegare il grano rappresenta un danno, quindi è un atto di vandalismo, il che considerando il fatto che sono pochissime le denunce degli agricoltori per atti di vandalismo, indica come io stesso ho potuto verificare nel mio viaggio in Inghilterra per studiare il fenomeno, che i contadini, gli agricoltori sanno benissimo che il fenomeno è un fenomeno non umano e quindi in un certo o qual modo anche sono un po' superstiziosamente lo temono. Quindi sono tutte considerazioni che raramente o forse mai si fanno nei programmi o negli articoli dove si discute su questo fenomeno. Poi tornando al discorso dell'energia, questo produce un effetto altrettanto importante, altrettanto difficile da falsificare, cioè l'energia che ha piegato le piantine in qualche modo cambia il seme della pianta che è interessato da questa energia ed è stato fatto dai ricercatori, in particolare dal professor Elzio Alseloff, olandese che ha studiato il fenomeno, addirittura lui fece uno dei primi articoli sui cerchi nel grano che fu pubblicato poi da una rivista scientifica che si chiama Fisiologia Plantarum, quindi c'è stato un interesse anche di carattere scientifico. Tutte notizie, ribadisco al Viano, che la grande massa non conosce bene, questo signore ha avuto un'idea, considerando appunto il fattore energetico, che lui stimò come un'emissione puntiforme a circa 4 metri d'altezza dal suolo, che è più o meno quello che si vede in quel famoso filmato che si è cercato in tutti i modi di discreditare, realizzato nel 1996, sempre in Inghilterra, dove si vedono alcune sfere di luce passare sopra un campo e come passano sopra il grano, più o meno all'altezza identificata da Aseloff, vediamo il grano piegarsi, ebbene Aseloff ha visto questa genialata, ha preso dei semi di un campo di grano fuori dalla zona interessata dal cerchio nel grano e ne ha preso altri semi di grano, chicchi di grano, nella zona interessata, li ha piantati insieme e si è reso conto con grandissima sorpresa che i semi di grano interessati da questa energia crescevano circa 5 volte più veloci dei semi normali prelevati nelle zone, diciamo così, vergini del campo, quindi questa energia non solo è in grado di realizzare queste figure, ma realizza dei cambiamenti di carattere genetico vero e proprio nei semi per cui il grano, ribadisco, prelevato da dentro il cerchio cresce più veloce, il che ancora questa situazione dà luogo ad un altro fenomeno che viene chiamato quello dei cerchi fantasma, cioè a dire che questa energia che ha piegato le piantine al suolo rimane impregnata nel terreno fino all'anno successivo, cioè non va via, nonostante comunque 12 mesi c'è sole, pioggia, neve, brina, eccetera, eccetera, eppure spesso è così forte ancora questa energia che appunto realizza dei cambiamenti nei nuovi semi, quindi semi vergini non precedentemente interessati dall'energia che crea il cerchio nel grano, eppure questi semi nuovi piantati nelle stesse aree dove il cerchio nel grano si era manifestato l'anno precedente a causa della differente velocità di crescita che si realizza appunto all'energia residua del cerchio nel grano dell'anno precedente, ebbene la differente velocità di crescita crea sul terreno una specie di ombra che è lo schema del cerchio nel grano dell'anno precedente e questo fenomeno viene chiamato quello dei cerchi fantasma, abbiamo dei casi anche qui in Italia di cerchi nel grano fantasma, quindi nell'anno in cui il cerchio compare abbiamo la classica caratteristica della piegatura delle piantine, invece l'anno successivo le piantine sono tutte verticali, quindi sono dritte, però crescendo con differenti velocità quelle dei semi piantati nella zona del cerchio nel grano si crea questa traccia, questa particolarità dove si può vedere chiarissimamente, io ho numerose foto di questo fenomeno con il cerchio originale e il cerchio fantasma dell'anno successivo, si vede chiaramente che si ripropone esattamente l'ombra della figura dell'anno precedente, quindi insomma voglio dire qui abbiamo la pistola fumante, cioè la prova delle prove che il fenomeno non è assolutamente un fenomeno umano, tra l'altro rimane anche un'altra cosa da dire, che a volte è successo che i ricercatori accompagnati da truppe televisive per realizzare all'interno dei cerchi delle interviste praticamente si riscontravano malfunzionamenti delle telecamere, strani suoni elettrostatici nelle cuffie che si usavano per monitorare l'audio, quindi possiamo da questo dedurre che questo schema energetico che si vede bidimensionale al suolo in realtà è un campo, è un volume, quindi questa energia è come una sfera nella quale la mezzeria è la figura impressa al suolo e questa sfera va al di sopra del terreno e al di sotto del terreno, quindi tutto un insieme di situazioni assolutamente straordinarie. In ultimo voglio citare l'unico caso di cui abbiamo testimonianza fotografica, compare nel campo della zona di Oliver Kestl, che tra l'altro è il posto dove furono filmate nel 1996 quelle sfere a realizzare un cerchio nel grano, ebbene nella contea dell'Uilcher, il 16 agosto del 2008 compare un cerchio nel grano che è una specie di esagono con delle punte e altre figure abbastanza particolari all'interno c'è una specie di tetraedro, all'interno di un altro esagono più piccolo, ebbene una mattina dell'inverno dello stesso anno un pilota appassionato del fenomeno si trova a sorvolare questo campo dove l'estate precedente era comparso il cerchio nel grano e siccome durante la notte è stata una forte gelata, infatti il campo è tutto bianco, sembra quasi nevicato, ebbene la brina, quindi l'acqua, non si è formata bene come fuori da quell'area nella zona dove era comparso l'estate precedente il cerchio nel grano, quindi questa energia interessa e varia anche la capacità dell'acqua. E persiste come nel tempo. Persiste nel tempo, quindi non solo i chicchi di grano che verranno piantati la primavera successiva, ma durante l'inverno persino l'acqua non riesce a gelare, nello stesso modo con cui gela fuori dalla zona dove fu apparsa la figura e forma, quindi nello strato di ghiaccio al suolo si forma il fantasma del cerchio nel grano dell'anno precedente, quindi tutti questi fattori sono assolutamente straordinari da un punto di vista fisico, tra l'altro non dimenticando di dire che poi l'estate successiva, nello stesso campo seminato a grano è comparso pure il fantasma dello stesso cerchio. Quindi abbiamo un fantasma nel ghiaccio e un fantasma nel grano del cerchio nel grano dell'anno precedente. Quindi con questo credo che abbiamo dato un ottimo sostegno probatorio da un punto di vista scientifico alla natura esogena del fenomeno, senza parlare poi di tutte le altre caratteristiche matematiche, geometriche straordinarie che possiedono i cerchi nel grano. Guarda, un paio di domande ancora, la prima riguarda i fenomeni di quest'anno, dalla tua esperienza cosa secondo te è arrivato, quale messaggio ci sta arrivando, cosa sta succedendo in questi cerchi, che significati ci sono? Guarda, quest'anno è stato un anno sorribilis del fenomeno, nel senso che veramente sono comparsi pochissimi, a mio avviso, e questo è il mio parere, non sono andato in Inghilterra quest'anno, però ho seguito come tutti gli anni con grandissima attenzione tutte le figure che andavano comparendo, e dal mio punto di vista forse il 70-80% sono tutti di origine umana, c'è stata quest'anno un enorme intensificarsi dell'attività umana di falsificazione con addirittura un cerchio nel grano molto bello, molto grande e complicato, che alla fine dopo poco tempo si è rivelato non essere altro che il logo di una ditta che vende online delle pipe in vetro per fumare hashish e marijuana. Un'opera molto molto bella, fatta molto bene, ma comunque ad un'analisi appena appena più approfondita si vedevano con chiarezza le tracce dell'origine fraudolenta di questo cerchio nel grano, comunque a prima vista molto bello e apparentemente all'inizio ha ingannato molti che pensavano fosse un cerchio nel grano originale, invece era appunto un cerchio nel grano fraudolento. Quindi è stato veramente un anno che mi ha stupito, non ricordo altre annate con così pochi cerchi nel grano veri e così tanti cerchi nel grano falsi. Non so quale sia il motivo, però un'idea me la sono fatta in relazione soprattutto a quello che secondo me è la figura più importante che è comparsa quest'anno, che è una figura sempre comparsa nella zona di Acpen, nel wheelchair il 23 giugno 2016, il che è una data non indifferente assolutamente perché è esattamente il giorno in cui escono i dati del referendum per la Brexit, cioè il giorno in cui siamo venuti a sapere che il popolo inglese aveva votato per uscire dall'Unione Europea. Quindi io rilevo assolutamente una concomitanza strettissima tra questo fatto e la figura che compare nei cerchi nel grano. Penso che considerando il significato e il simbolismo che presenta questa figura, forse gli extraterrestri, i fratelli celesti hanno voluto sfrondare e mettere in risalto l'importante messaggio che ci dà il pittogramma che hanno stampato nel sole inglese, forse per indicare in questo evento qualcosa di molto importante che riguarda il prossimo futuro del nostro mondo. Ecco, per addentrarci forse di più su questo tema, perché come accennavo tutte le tue trattazioni non mancano di lasciare dei connotati profondamente spirituali. Per quanto i cerchi io quando li ho visti nelle tue conferenze, quando ho comprato dei libri che parlavano di questi cerchi e intendo quelli veramente reali, mi hanno sempre dato una profondissima emozione, come se il cuore si alzasse alla mattina con una bellissima alba o vedesse un bellissimo tramonto, qualche cosa di meraviglioso, ti danno questa sensazione proprio fisica elettrizzante di una profonda gioia, di una grande serenità, di una grande calma, ma proprio felicità silenziosa che ti scorre dentro le vene e qualcuno per la sua grandezza, non lo so, tu uno dal punto di vista emozionale che cosa ci puoi dire e due appunto come stavi accennando adesso il messaggio di questi cerchi nel profondo dove vuole andare? Allora sì, essendo io andato varie volte in Inghilterra quindi avendo avuto modo di entrare dentro queste figure, ma questo l'ho fatto anche in Italia, sì mi è capitato di avere le sensazioni che hai detto tu, al viano anche molto forti, in particolare nel 2014 sono andato in Inghilterra assieme al caro amico, famosissimo investigatore, giornalista televisivo messicano Jaime Maussan, assieme alla sua troupe, ed ero accompagnato qui dall'Italia, o meglio forse lui l'accompagnavo, dallo stigmatizzato e contattista italiano Giorgio Bongiovanni. E quell'anno su un campo inglese era comparsa un bellissimo pittogramma che dall'analisi che io feci ancora prima di andare in Inghilterra per me rappresentava un simbolismo che riconduceva alla Santissima Vergine, alla Vergine Maria, nella sua accezione più pura del significato esoterico del suo numero che è il 5, quindi era un cerchio del 555, che per chi un po' si intende di cabbala o di significato del numero, il 555 è il numero della Santissima Vergine che si oppone al numero dell'Anticristo che è il 666. Ebbene entrando in questo cerchio nel grano, ancora prima di giungere, è un cerchio molto grande, e ancora prima di entrare nella figura incomincio a percepire questa energia così forte che e mi sale un'emozione che faccio fatica a trattenere le lacrime. Io non sono, sono un tommasiano, sono uno che è sempre lì con la bilancia e il metro per pesare e misurare tutto, quindi non sono uno facilmente incline alle emotività, eppure… Nel tuo lavoro è necessario, ed è bene. È necessaria la razionalità, è necessario il numero, la mente sveglia e poche emozioni che spesso sono solo fuorvianti. Invece avvicinandomi a questo cerchio nel grano è stata veramente una cosa per me del tutto inaspettata sentire questa energia così amorevole, così bella, che mi saliva il pianto. Sono riuscito a trattenere le lacrime perché eravamo quasi dieci persone, tra Mausan, cameraman, fotografi, altri amici italiani. Giorgio non c'era in quel cerchio perché era un cerchio molto addentro nella campagna inglese, non è stato facile arrivarci, abbiamo dovuto vagare per campi per oltre 40 minuti e l'abbiamo trovato solo perché grazie al drone di Mausan che veniva mandato in avanscoperta, se no non lo so se fossimo riusciti, perché era nascosto dentro, lontano, molto lontano dalle vie dove si poteva accedere con le automobili. Quindi è stata sicuramente un'esperienza per me importante, molto particolare considerando appunto il fatto che il simbolismo di questo cerchio nel grano si riferiva alla Santissima Vergine, tra l'altro quando siamo rientrati dall'Inghilterra dopo vari giorni, nello stesso campo dove era comparso il cerchio della Madonna e è comparso il cerchio dell'Anticristo. Quindi nello stesso campo ci siamo trovati proprio come messaggio simbolico il 555 contro il 666 a sottolineare che siamo nel tempo della grande battaglia tra il bene e il male perché questi comunque sono segni escatologici, segni apocalittici nel senso che fanno parte di quella rivelazione di cui ci parla l'Apostolo Giovanni e che indica il tempo nel quale Cristo sta per rimanifestarsi per la seconda volta, sta per manifestarsi per la seconda volta agli uomini del pianeta Terra. Guarda, io ti ringrazio molto, spero che quanto possono aver ascoltato i radioascoltatori possa aver acceso in loro almeno la curiosità di approfondire questo aspetto anche dal punto di vista come la stai dicendo tu adesso veramente così. Ho un secondo perché comunque abbiamo parlato di questo cerchio ma non ho detto che cos'è il cerchio di quest'anno che secondo me è il messaggio importante che gli extraterrestri ci hanno lasciato. Il cerchio nel grano è un cerchio dove si vedono due squali il cui corpo è però suddiviso in tre parti. questi due squali si azzannano l'uno con l'altro è comparso ribadisco il 23 giugno del 2016 in Inghilterra vicino alla città di Akpen nella contea delle Wiltshire e il simbolismo praticamente ci dice che siamo nel tempo dove il mondo non è più sotto un potere unipolare ma ci sono due poteri anticristici rappresentati da questi due squali quindi due bestie le due bestie dell'apocalisse queste due bestie si stanno azzannando l'una con l'altra le due bestie sono indubbiamente l'occidente capeggiato dagli Stati Uniti con tutti gli alleati e la Cina e la Russia soprattutto la Russia e i loro alleati quindi queste due bestie che in questo momento si stanno contendendo lo scenario internazionale per vedere chi tra le due predomina vediamo il tristissimo e drammatico scenario siriano con la tregua rotta da questo vigliacco attacco americano all'esercito siriano per permettere ai mercenari dell'Isis di cui il Pentagono è la vera mano che li ha creati questo l'ha detto persino il generale dell'intelligence della difesa americana il generale Flynn l'ha detto pure la Clinton che l'Isis è una loro creatura una volta scoperti hanno detto che gli sta scappando di mano come se fosse una roba ma non è vero al mariano sì sì no no ti capisco non è assolutamente vero e l'intervento dell'aviazione americana addirittura con aerei inglesi e credo anche svedesi che hanno ucciso oltre 60 soldati siriani che stavano difendendo una zona di Aleppo che l'Isis stava cercando di conquistare grazie all'intervento dell'aviazione americana l'Isis ha conquistato questa zona e quindi questa la dice lunga sulla terribile menzogna nel quale le persone sono tenute dai nostri media falsi e venduti che difendono gli interessi dei potentati quindi questo cerchio nel grano ci parla di queste due bestie che stanno lottando l'una con l'altra il che rappresenta un gravissimo pericolo perché entrambe le bestie sono dotate di migliaia di armi nucleari è curioso che il sezionamento in tre parti di queste due bestie è realizzato da due volte il 666 sovrapposto quindi le due bestie rappresentate dagli squali poi le ritroviamo come simbolismo del 666 che è il numero della bestia, il numero dell'anticristo così come ce lo dice l'apostolo Giovanni nel libro dell'Apocalisse però al centro poi di questa figura con i due squali e i due 666 abbiamo poi un'altra figura che è la triquetra, la triquetra è un simbolo celtico, un simbolo solare che rappresenta il divino quindi all'interno di questo scenario, di questa lotta feroce tra i due anticristi che si contendono il dominio dell'uomo comunque c'è la forza di Dio che sta operando dietro le quinte per raggiungere il compimento dei suoi progetti che come ben sappiamo dalla profezia evangelica è l'instaurazione sulla terra del regno di Dio dopo purtroppo una grandissima sofferenza che l'umanità dovrà passare, sofferenza che la Santa Vergine nella maggior parte dei suoi messaggi più importanti ha spiegato molto molto bene e soprattutto nel messaggio di Fatima lo possiamo vedere bene nel cosiddetto testo diplomatico del terzo segreto di Fatima che tutti possono leggere su internet testo che la Santa Vergine confermò a Giorgio Bongiovanni durante le apparizioni, l'apparizione in cui lo ha stigmatizzato come testo assolutamente attendibile se non nella forma espressiva nei concetti che vi sono contenuti, l'unica cosa che era stata tolta anche da questo testo, la Vergine specifica Giorgio, era la visita extraterrestre la frase era questa, è in quel tempo, seconda metà del secolo XX, esseri cosmici verranno da lontani lidi dell'universo nel nome di Dio cioè a dire che la presenza extraterrestre è un altro segno messianico o escatologico che indica appunto che siamo nel tempo del compimento delle profezie e dell'instaurazione del regno di Dio sulla terra e del giudizio dell'umanità da parte di Cristo che tornerà a visitare il nostro mondo questo quindi l'importantissima simbologia contenuta in questo cerchio nel grano secondo me, io credo, conoscendo un po' come lavorano i fratelli extraterrestri è stata sfrondata da altri messaggi, si è voluto lasciare come messaggio militare questo cerchio nel grano che indica e marca la gravissima situazione di attrito tra le due potenze mondiali, ribadisco e sottolineo armate fino ai denti di migliaia di testate nucleari che è sotto gli occhi di tutti e solo chi non vuole vedere non vede in questo momento bisogna essere ciechi oppure purtroppo mi succede anche questo, molta gente preferisce non sapere perché si spaventa e preferisce tenere la testa sotto la sabbia come fanno gli struzzi pazienza, comunque credenti non credenti che ci piaccia o meno, che ci interessi o meno lo dovremmo vivere perché tutti questi discorsi non sono discorsi di credo, non sono discorsi religiosi ma sono semplicemente dei discorsi storico sociali perché tutti questa situazione già la stiamo vivendo ma l'andremo a vivere con maggiore intensità drammatica nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Grazie Pier Giorgio per tutte le informazioni e per questo profondo messaggio che lasciamo alla libertà degli ascoltatori di approfondire. Grazie molte, un abbraccio. Grazie a te Alviano e un saluto a te e a tutti i radioascoltatori. Alla prossima, grazie. Ciao, ecco ripassiamo la regia a Massimo Bonella, un abbraccio a tutti, buonanotte. Sì, grazie ad Alviano Appi, dunque riprendiamo più che dalla regia dallo studio 1 qui di Fontana Fredda. A proposito di regia, Alviano mi ha fatto venire in mente che c'è da ringraziare per la messa in onda il nostro registra che è appunto lui Paolo Gavasso e naturalmente anche la regia centrale di Radio Siles a Treviso, Rosario Moreno con tutto il suo network e tutte le altre emittenti web a taglio locale che appunto compongono il circuito Radio Siles che grazie appunto a loro siamo riusciti a dare in onda e anzi un doppio grazie a Siles che gratuitamente ci rimette in onda in modo tale da poter ampliare il raggio d'azione. Ricordo che Radio Piper Fontana Fredda modula sui 93,8 e 88 e 800 MHz per tutto l'alto Adriatico, vale a dire da Venezia a Capodistria, anche oltre c'è chi l'ha ascoltato addirittura in centro Svregna, addirittura a Ljubljana e dunque non mi resta a questo punto di ringraziarvi anche a voi per averci seguito. Meditiamo, è il caso di dire, su quanto abbiamo ascoltato nell'intervista di Alviano Appi a Pier Giorgio Caria, noto documentarista, reportagista, ricercatore, noi ci sentiamo dunque la prossima settimana sempre alla stessa ora con Pianeta Oggi e Venti nel Mondo, grazie per averci seguito e buon proseguimento con le nostre programmazioni. Avete ascoltato Pianeta Oggi e Venti nel Mondo a cura di Massimo Bonella in onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Grazie a tutti. Grazie a tutti.